Con Giuseppe De Luca lo sguardo giusto per tre punti fondamentali, perché siete in crescita, lo avete dimostrato anche in questa sfida. Sì, sì, non solo oggi, ma anche in altre partite abbiamo dimostrato comunque di essere una squadra ben compatta, unita. Ci è mancato nelle altre partite il gol, che siamo una squadra che comunque creiamo tanto, quindi è normale che poi quando non segni le partite o le pareggio addirittura le perdi. Quindi oggi penso che, come ho detto anche prima, non abbiamo fatto una super partita, sotto tutti i punti di vista si vedeva proprio questa vittoria a tutti i costi e penso che dal primo fino al novantesimo non c'è mai stata partita. Quindi c'è anche, come ho detto prima, un pizzico di rammarico per il risultato, perché penso che, ora non lo so bene le statistiche, ma abbiamo creato al minimo 6-7 palle gol nitide per addirittura arrotondare il risultato. Però dobbiamo ripartire da qui, dal martedì, ci dobbiamo comunque concentrare su una partita molto importante che è Pisa, quindi è una partita molto difficile. Però per ora ci vediamo questa vittoria qui, perché ce la meritiamo, perché è la verità anche quella, quindi dobbiamo continuare così, a lavorare così e questa è la cosa più importante. E' una bella storia anche per Lentella, perché lo scorso anno di rimonta anche per il calendario, stai trovando anche continuità ed è anche, credo per te, un piacere con questo clip. Certo, certo, no, no, assolutamente. L'anno scorso è stato qualcosa di straordinario, dopo due anni fa, che comunque eravamo retrocessi, abbiamo vinto subito il campionato. Sicuramente non è stato facile, perché dietro c'è stato un grande lavoro e comunque è anche una società che non ha mai mollato. Un presidente che comunque ci è sempre stato vicino può essere magari anche una cosa un po' banale, ma invece per noi era molto importante e ci siamo tolti la soddisfazione di vincere il campionato l'anno scorso. Quest'anno siamo partiti comunque con grande voglia e l'entusiasmo anche che c'era l'anno scorso e penso che, come ho detto, come dico sempre, dobbiamo sempre solo lavorare. Il lavoro poi alla fine ti porta i frutti, ti porta i risultati, ti porta a soddisfazioni, quindi dobbiamo continuare così, dobbiamo continuare così, lavorare, lavorare, lavorare e penso che poi a fine anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni. A te la cuffia così puoi ascoltare anche lo studio, a voi. Sì, assolutamente complimenti per la prima rete della tua squadra. Ecco, alla luce degli ultimi due risultati della Juve Stabia, che sicuramente veniva da un buon momento visto come affrontati i due derby, vi aspettavate questa squadra, soprattutto un secondo tempo, una squadra molto remissiva rispetto a quelli che erano stati i risultati precedenti con Venimento e Salernitano? Penso che noi questa settimana abbiamo preparato la partita, comunque guardando anche la partita che avevano fatto nel derby contro la Salernitana, non ci aspettavamo magari un atteggiamento così, quello sì, però noi sapevamo dei nostri mezzi, soprattutto di quando giochiamo in casa. Quindi l'abbiamo messa comunque subito sul piano della ferocia, di essere aggressivi e siamo stati penso cinici al momento giusto e quindi penso che sia stata una vittoria strameritata. Salve e complimenti anche da parte mia, l'avevate dimostrato anche a Salerno di essere comunque una squadra caparbia, lo avete dimostrato oggi. Niente, volevo chiederti, Eramo ti ha fatto un assist al bacio, quindi cosa gli offrirai? Gli offrirai almeno una pizza perché ti ha fatto quell'assist, davvero ti ha servito quella palla che poi tu hai messo in rete. E poi, niente, com'è l'intesa con questo giovane De Luca, Manuel De Luca, questo 98 che comunque si muove abbastanza bene? Sì, no no, tornando a quello di prima di Eramo mi ha dato una palla, una gran palla, quindi penso che è un oggetto che comunque magari gli offrero una cena se ha voglia. Poi vediamo. Poi per l'altro Manuel De Luca penso che sia un giocatore che ha delle doti importanti e penso che deve continuare così a lavorare come sta facendo ogni giorno perché è un giocatore per noi molto importante e penso che comunque se lui continua a lavorare come sta facendo ora si toglierà anche lui delle soddisfazioni anche perché ha tanto davanti e quindi può solo che migliorare, quindi ha un futuro, questo è sicuro perché ha dei grandi colpi, quindi siamo contenti che è qui con noi.